Dottor Matteo Colarossi è un dottore forestale, con lui facciamo un discorso che riguarda certo il verde pubblico, ma riguarda anche un concetto generale di sostenibilità, verso la quale un po' tutti vogliono andare adesso come linea di principio. C'è una sostenibilità anche nell'utilizzo del legno ad esempio e il vostro ordine nazionale ritiene che lui abbia ragione a tutelare per esempio l'acquisto di legna che deve rispettare determinati requisiti. Sì, l'ordine nazionale non fa altro che citare quelle norme di buonsenso che vengono dall'Unione Europea e che vedono appunto la forte limitazione di importazione di legname proveniente da deforestazione dai paesi poveri o in via di sviluppo. Non ci dimentichiamo che l'Italia è il primo importatore di legname al mondo ed è anche il primo esportatore di mobili al mondo ed è anche il secondo o terzo importatore di legname da ardere a livello europeo. Però ha dei grandi superfici forestali che non gestisce e in maniera sostenibile e che le lascia un po' alla crescita naturale, però nello stesso tempo poi quando arrivano le intemperie o quando purtroppo scoppiano gli incendi, chiaramente boschi non gestiti in presenza di un territorio antropizzato da 2000 anni, chiaramente non è un effetto di una foresta abbandonata. Gli effetti sono notevolmente maggiori perché ci si trova in zone invallate abitate, in paesi vicino ai boschi che se prendono fuoco prendono fuoco anche le case. Insomma quello che dice l'Europa è giusto, poi deve essere calato nella nostra realtà che purtroppo con la modifica dell'articolo quinto della Costituzione è passata in mano alle regioni e non tutte le regioni hanno la stessa gestione forestale, cioè come se fossimo tornati nell'Italia preunitaria. Detto ciò, visto che siamo in un momento di grave carenza energetica e dove la legna da ardere diventa fondamentale e visto anche che le importazioni dalla Romania sono bloccate perché la Romania ha deciso di utilizzare per sé la legna da ardere con la mancanza di gas, chiaramente il tema dell'energia deve tornare in maniera assolutamente in mano allo Stato. L'energia parliamo non solo di gas, di autorizzazioni paleoliche e quant'altro, ma l'energia è anche la legna da ardere, le biomasse, legnose, il cippato, il pellet, cioè il famoso teleriscaldamento che viene fatto in Trentino Alto Adige viene fatto perché hanno un'autonomia che gli permette loro di avere in ogni paese una caldaia cippato, una caldaia a biomasse legnose che non inquina perché il legno non inquina, la CO2 del legno è già nel ciclo del carbonio calcolata, piuttosto sono i fossili che dal sottosuolo non sono nel ciclo del carbonio o aumentano la quantità di CO2 nel ciclo del carbonio e quindi nell'atmosfera. Quindi diciamo benissimo l'Europa, benissimo il comunicato del nostro ordine nazionale che noi riportiamo fedelmente e sottoscriviamo fedelmente, chiaramente ci aspettiamo un cambio di passo notevole sia a livello nazionale e anche a livello regionale. Che cosa ostacola, oltre alle regole che possono essere imposte dallo Stato, in questo caso dalle regioni, viste le competenze, che cosa crea problema? Quello che manca in Italia, ma soprattutto in Abruzzo, sono i piani di assestamento forestale. Sono in istruttoria in regione da 14 anni e non sono mai stati approvati. Questo è il primo ostacolo, dove numerosi appelli e numerose amministrazioni non hanno posto fine a questa lunghissima istruttoria. Cosa succede questo? Che se non abbiamo i piani di assestamento non possiamo nemmeno rendere più veloci quelle autorizzazioni ai vincoli ambientali giustissime, come quelli della rete Natura 2000, che sono i SIC e ZPS, dei parchi nazionali, che hanno bisogno di un nulla osta che si chiama valutazione di incidenza, ovvero la valutazione sottoscritta da parte del professionista degli impatti rispetto alle specie prioritarie che possono essere in via di rare oppure in via di estinzione. Chiaramente questi piani riuscirebbero a rendere più continuativo l'approvvigionamento del legname per gli usi civici e anche favorire quei servizi in montagna da parte dei comuni, visto che molti comuni, come avviene normalmente nelle Alpi, senza scandalizzarci, sono garantiti dalla vendita del legname e che possono permettere anche allo scuola bus del paese di poter andare in giro e portare i bambini a valle a scuola. La pianificazione manca, di conseguenza manca la certificazione di produzione sostenibile del legno, ci sono due marchi di certificazione sostenibile, di gestione forestale sostenibile e anche qui ce n'è solo un comune che lo ha fatto in Abruzzo e oltre questo manca ovviamente la continuità, ma la continuità la si crea soltanto se abbiamo uno strumento che è il piano di assestamento forestale che tra l'altro è obbligatorio per il testo unico delle foreste, legge nazionale e che ad oggi lo vediamo ancora bloccato in istruttoria.